Non andate a votare! Sono tutti ladri! Ah, guarda, io per votare dovrei richiedere la tessera elettorale in cura perché sono anni che l'ho persa, eh, che bomber! È colpa tua se le cose fanno male in Italia, io non ho votato nessuno, tu li hai rivotati un'altra volta! No, allora, chi non va a votare il cosiddetto astensionista non è una persona che protesta contro il sistema, non è un anticonformista. L'astensionista, chi non va a votare, è il più conformista di tutti, semplicemente sta esprimendo il fatto che lì va bene chiunque e delega a votare le altre persone anche per lui. E poi basta con questa cazzata del quello ha il 40% dei voti e governa e l'hanno votato il 25% degli italiani. Cioè il 25% è andato a votare, il 75% si è steduto, quindi quello è il 40% del 25%, quindi rappresenta solo il 10%, tutte cazzate. Quella persona ha il 40% di chi ha votato, rappresenta il 40% degli italiani che è rimasto a casa, ha delegato altri a votare per lui. Chiaro? Quindi l'opposizione quanto ha il 60% dei consensi, se vuole governare al posto di chi ha il 40%, si qualizza, fa un programma comune e governano loro. Non è difficile da capire, no? Allora, se votano tre persone in Italia, Berlusconi, Renzi e Gino, Berlusconi offre 10 milioni di euro a Gino, Gino vota Berlusconi che ottiene il 60%, il 66,6% dei consensi e governa. Renzi fa l'opposizione e Gino diventa ricco. La verità, volete sapere qual è? Chi non va a votare. Non lo fa per protesta o perché vuole scardinare il sistema o perché i politici non lo rappresentano, perché non c'è nessuno che gli piace. Non ci va perché non ha voglia di prendere e andare al seggio elettorale. Non ha voglia di informarsi e non ha voglia di andare a votare. La domenica vuole alzarsi tardi la mattina, vuole andarsi a fare una gita fuori porta e non ha voglia di andare al seggio. E neanche di vedere chi c'è nella lista. Questa è la verità. Che poi sono l'ultimo io a voler fare la morale, a dire che è sfaticato, non ne voglia. Per me anzi, la pigrizia, la non voglia di faticare sono tutti sintomi di intelligenza. Però non mi piace l'ipocrisia. È così? Allora dillo, non vado a votare perché non c'ho voglia, perché tanto non cambia nulla e tanto sono tutti uguali, quindi per me uno vale l'altro. Ok, questa è la tua scelta. Bene che voti per te chi se ne intende di più e chi ci sente di più e vuole andare a votare anche per te. Perché se veramente vuoi dare un segnale contro il sistema e far capire che nessuno ti rappresenta, allora sì, alza il culo, muovi il culo, vai al seggio, prendi la scheda e non la mettere bianca. Scrivici qualcosa sopra. Andate a fare il culo, ladri. Non voto perché la sinistra non c'è più, non voto perché Salvini mi ha tradito, ora si fa votare dai terrori. Scrivici qualcosa. Esiste l'opportunità di esprimerti. È meglio così. Non servirà nulla perché poi a porta a porta diranno allora quella Lega ha preso tot, il PD ha preso tot e nessuno leggerà quello che hai scritto sulla tua scheda. Ma almeno non sarà riutilizzata da quelli del seggio per metterci un voto loro. Se gliela dai bianca. E poi comunque sei stato coerente con te stesso. Sei andato lì e hai annullato la scheda. Ma io ti consiglio però invece di votare. Ma a chi se non mi piace nessuno? Se non ti piace nessuno vota il meno peggio. Sono tutti uguali, decine di liste, liste piccole. Sicuro che sono tutti uguali, non lo sono. Informati e vota il meno peggio. Eh ma se puoi la scelta tra due soli persone che entrambi fanno schifo non sono sovrapponibili al 100%. Nessuna dei due ti convince del tutto o anche in gran parte ma uno dei due è meno peggio di quell'altro. Non sono uguali, non esiste. Perché la tua non è... Capisco, tu vuoi protestare, dici. Io perché devo scegliere tra due che non mi piacciono? Ma più che una protesta, la tua mi sembra una lamentela. Ce ne sono volte anche su YouTube come te. Gente che si lamenta, si lamenta e non sa fare niente. Arriva sotto i video, uno stamattina mi fa video senza senso, quello che parlava della razza bianca. Beh, cosa vuol dire video senza senso? Oppure altri commenti. Ma ti rendi conto le cazzate che dici? Sei proprio uno stupido. Che video del cazzo? Ok. Perché? Cosa? Cosa hai detto? Riguardo quale punto del video? Che idee hai tu? E poi vai a vedere di canonio. Cioè, solo la gente buona a lamentarsi che nemmeno si apre un canale, dice qualcosa. No. Questo è il lamentoso medio italiano. Lo stesso che non va a votare. Ti fanno schifo tutti? Ma candidati te. Nella tua realtà locale non c'è un circolo culturale, un'associazione di volontariato, un qualche tuo amico impegnato in politica. Apri un blog tuo. Ma complimenti a quei ragazzi dei 5 Stelle che si sono iscritti lì al portale, si sono presentati e sono stati eletti in Parlamento. E te mi dirai, ma guarda, furboni loro, almeno hanno risolto il problema loro. Ma meglio, almeno hanno risolto il problema loro e dei loro stretti familiari, non rompono i coglioni al prossimo come fai tu. Che poi i lamentosi sono i primi che scassano il cazzo al vicino di casa perché ha lasciato la gomma dell'auto 5 cm fuori dalle righe del parcheggio, o che stressano i figli in tutti i modi e sono pretenziosi, o che rovinano la vita al proprio partner. Questi sono i tipici lamentosi italiani, che vanno su Youtube a dire, ecco tu, non lavori e vorresti prendere soldi. Gente inutile che sa solo lamentarsi. Benvenga chi si è messo in politica, non solo nei 5 Stelle, ma anche chi ha preso la tessera del Partito Democratico e fa politica attiva, chi ha fondato un club Forza Italia e cerca di fare politica lì, chi è iscritto nella Lega e cerca nella sua realtà territoriale di fare qualcosa, chi crede ancora nella sinistra e nei valori di socialismo, di ridistribuzione della ricchezza, chi lotta per i diritti LGBT, questa è gente che fa qualcosa. Tu che cazzo fai? Ti lamenti? Cioè, almeno fammi il piacere di stare zitto, perché il popolino lamentoso non ha mai fatto niente nella storia, non è mai servito a nulla, anzi ha fatto solo un sacco di danni. Quindi, tutto qui. Tienti le tue idee, ma sii coerente con le tue idee, non fare quello che vuol fare il rivoluzionario e poi è il più conformista di tutti e almeno statene un po' zitto. Te ne saremo tutti grati. Ok? Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima.